I venti di burrasca che ispirano da Palazzo San Francesco non hanno fermato l'attivismo del sindaco Gianfranco Di Piero questa mattina in campo con l'esercito dei circa 60 volontari per la seconda edizione di Sulmona Pulita Siamo Noi, una vera e propria bonifica al verde pubblico dalla villa comunale dove sono in corso i lavori di riqualificazione ai campetti di Viale delle Metamorfosi. Assieme all'ana di Sulmona, volontari delle frazioni, amici di Luca e AMPS hanno partecipato all'iniziativa organizzata al Comune anche sette ospiti della casa famiglia che si sono occupati della pulizia di Villa Orsini, un bel esempio di integrazione.